Sono il dottor Antonio Bruno e sono il responsabile del laboratorio di immunità innata presso il nostro centro IRCS Multimedica. Oggi vi parlo come uno dei vincitori del progetto New Idea World, un'iniziativa del nostro IRCCS che ha premiato progetti innovativi traslazionali, cioè che vedono una importante collaborazione tra il ricercatore di base e il clinico, quindi colui che veramente vede il malato. Di cosa parla il nostro progetto? Il principale scopo è appunto il tumore al polmone. Il tumore al polmone, come sapete, è una delle cause di morte per tumori più importanti e considerato veramente un big killer nell'ambito dell'oncologia. E perché ci sono ancora così difficoltà in questo campo? Perché quello che succede è che molto spesso il sistema immunitario che dovrebbe difenderci dai tumori inizia a non funzionare. Inizia a non funzionare per quale motivo? Perché è il tumore stesso che in qualche modo corrompe il sistema immunitario e lo usa a proprio vantaggio. Il progetto si occupa proprio di questo, cioè di capire nell'ambito del tumore al polmone quali sono quei messaggi, quegli interruttori che il tumore stesso è in grado di spegnere sulle nostre difese immunitarie, quindi capire quali sono questi interruttori e capire anche come riaccenderli con un approccio che vede sia la ricerca in provetta, quindi in laboratorio, sia un diretto rapporto con la clinica, quindi con il paziente e con il medico che cura il paziente. Se siete interessati a qualche dettaglio in più sul nostro progetto, potete cliccare sul nostro LinkedIn. Grazie a tutti.